Aro Titano Aro Titano si chiama il fiore che da lontano non per colore attrae l'umano, ma per l'odore. Non è curioso che sia l'insetto paia goloso e a me dispetto, se il naso poso par gabinetto. Alla fine sono solo prospettive, non ci sono cose buone né cattive. Alla fine.